È stato appena pronunciato il dispositivo della sentenza per il processo Coingas, sostanzialmente è arrivata la condanna per l'avvocato fiorentino Olivetti Rason e poi condanne anche per il filone multiservizi. Il sindaco di Arezzo non è stato condannato, è stato assolto per abuso d'ufficio, quindi rimane nel suo ruolo, nel suo incarico. Che cosa si sente di dire ai cittadini di Arezzo? Purtroppo ho dovuto leggere le 5.000 cartelle del processo, ho dovuto studiare tanto, quindi ho dovuto anche impegnarmi su questo processo e forse non ho ottemperato a tutti i miei doveri di sindaco proprio per questo impegno continuo e da stasera si ricomincia come prima. Il sindaco Ghinalli ha dovuto subire tre processi in uno e da due su tre è stato assolto, ha aggiunto il suo legale Luca Fanfani che velatamente ma non troppo ha sottolineato come l'impianto accusatorio sia stato sostanzialmente smontato in questo primo grado di giudizio, che vede l'assoluzione per Francesco Macri, tre anni per Olivetti Rason, uno per il consigliere comunale Roberto Bardelli e per l'ex presidente di Arezzo Multiservizi Luca Amendola. Su questo filone è assolto Lorenzo Roggi, tre mesi per favoreggiamento per Ghinnelli. Assoluzione infine per l'attuale amministratore di Coingas, Franco Scortecci, per Maracacioli, Marco Cocci e Stefano Pasquini. Ed ora si aprono nuovi scenari politici per il centrodestra retino.